L'isola dei famosi, Terlizzi ha abbandonato il reality, il motivo L'avventura dei naufraghi sull'arcipelago di Caio Cochino sta per giungere al termine Gli umori dei superstiti non sembrano essere molto sereni. In questa settimana, infatti, le discussioni hanno preso il sopravvento e la maggior parte dei naufraghi ha attaccato l'ex pugile cancelletto Franco Terlizzi. Che proprio in questi ultimi giorni ha lasciato il gioco definitivamente. Andiamo a scoprire qualche indiscrezione in più a riguardo. Franco Terlizzi lascia l'isola dei famosi e torna in Italia. Come vi abbiamo riportato nell'introduzione dell'articolo, Franco Terlizzi, il beniamino del trio comico La Giallappas Band, ha lasciato il reality a poche settimane dal traguardo finale. Secondo le ultime indiscrezioni Franco ha abbandonato il gioco per il suo stato di salute, ma sul suo ritiro verrà fatta presto chiarezza visto. Che martedì andrà in onda un'altra puntata in prime time su Canale 5. L'ex pugile molto probabilmente nel corso della prossima diretta sarà ospite in studio da Alessia Marcuzzi. Simone Barbato atteso in studio dopo l'eliminazione. La scorsa puntata è stato eliminato dal televoto Simone Barbato che era entrato in gioco dopo poche settimane dall'inizio della tredicesima edizione. Il naufrago in occasione della puntata in onda il 3 aprile sarà ospite in studio dove vedrà insieme al pubblico il suo best moment. Il video che racchiude in pochi minuti la sua esperienza trascorsa sull'arcipel a Gonduregno. I tre nominati della settimana. Questa settimana al televoto ci sono finiti altri tre naufraghi, Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian. Secondo quanto si apprende dai sondaggi del web il concorrente che potrebbe lasciare l'isola nel corso della undicesima puntata è Nino Formicola. Che al momento avrebbe una percentuale del 49%. Il naufrago eliminato non dovrà lasciare il gioco tempestivamente ma verrà aggiungo al gruppo dei sospesi assieme a Rosa Perrotta e Elena Morali. Infine si aprirà un televoto e soltanto uno dei ripescati avrà il privilegio di tornare completamente in gioco. Ovviamente i dati che vi abbiamo fornito poc'anzi sono soltanto indicativi, l'esito ufficiale del televoto verrà annunciato in diretta martedì dalla conduttrice del reality show Alessia Marcuzzi. Per il momento è tutto, non ci resta che tenervi informati sul percorso dei naufraghi con altra news riguardanti il mondo del gossip e della televisione italiana. Per il momento è stato un progetto di Batist ego al corso dell'esito dell'esito di paine. Ma knowing l'esito deve essere lung AmericansIf greatio per la tira Finanza per la loro storia. Per il momento è stato sempre uno dei saci di PAI forte per la gioia. In Andrea Contor ore 5 anniON,